Verso la stretta finale per la sezione di tre delle quattro good bank nate dalla risoluzione delle vecchie banche Truria, Banca Marche e Carichietti. A farsi sempre più insistente, il nome di Ubi, l'istituto bergamasco, sarebbe infatti pronto ad acquistare le tre good bank e potrebbe farlo in tempi stretti, come si legge nelle colonne del Sole 24 Ore. La banca, guidata da Victor Massia, potrebbe chiudere il tutto già la prossima settimana, soprattutto qualora non si presentassero concorrenti alla nuova asta. Bruxelles, infatti, nelle ultime settimane aveva chiesto di riaprire la gara ai soggetti che nella scorsa estate avevano presentato offerte vincolanti per le quattro banche Ponte, salvo poi vedersele respingere. Una mossa riporta il Sole 24 Ore che punta ad assicurare il massimo rispetto del processo competitivo, visto che l'offerta di Ubi sarebbe ritenuta peggiorativa rispetto alle vecchie proposte. Dunque, entro lunedì 9 gennaio dovranno pervenire presso l'autorità di risoluzione le eventuali manifestazioni di interesse non vincolanti. Tra coloro che hanno ricevuto una lettera di invito a rientrare in gara ci sono innanzitutto Apollo e Lone Star, ma anche il gruppo assicurativo Barenz. Ci saranno poi due settimane di tempo per le due diligence nel caso si facesse avanti un nuovo soggetto. L'offerta vincolante dovrebbe arrivare entro fine gennaio e la conclusione del deal non potrà andare avanti oltre alla fine di marzo, secondo gli input di Bruxelles. Se non ci saranno nuove offerte dalla nuova gara entro metà mese avverrà la firma, ma si acquisterà così le tre banche al prezzo simbolico di un euro chiedendo tra le altre galanzie la cessione di 2,2 miliardi di crediti deteriorati al Fondo Atlante.